Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò le sfide dei pass battaglia della terza settimana della stagione 4 che usciranno questo martedì mattina su Fortnite. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link in descrizione e a lasciare un bel mi piace al video. Grazie a tutti quelli che lo faranno. E iniziamo subito! Poco fa un utente su Reddit ha pubblicato questa immagine contenente le sfide dei pass battaglia della settimana 3. La prima sfida sarà guarda una partita nella modalità replay. La seconda sfida sarà infliggi danni agli avversari con pistole. Bisognerà infliggere 500 danni con pistole agli avversari per completare la sfida. Poi la terza sfida sarà cerca forzieri in rifugio ritirato e bisognerà aprire 7 forzieri in rifugio ritirato per completare la sfida. Poi la quarta sfida sarà cerca un anatra di gomma e bisognerà cercare 10 anatra di gomma per completare la sfida. Poi la quinta sfida sarà segui la mappa del tesoro trovata in Borgo Bislacco che sarebbe una delle solite sfide dove bisognerà trovare la stella. Di qui sicuramente vi farò un video a riguardo. Poi la sesta sfida sarà elimina nemici con fucile di precisione e bisognerà eliminare 2 nemici con fucile di precisione per completare la sfida. E poi la settima e ultima sfida dei pass battaglia della terza settimana sarà elimina gli avversari a pinnacoli pendenti. E bisognerà eliminare 3 avversari a pinnacoli pendenti per completare la sfida. Queste saranno le sfide dei pass battaglia della settimana 3 che usciranno questa mattina su Fortnite. Quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollice in in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, seguitemi sui social sulla pagina Facebook, su Instagram e sul canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link in descrizione. E da Orkoverd tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!